con i 5 stelle che attaccano e Grillo che parla della figura in via di estinzione dell'onesto. Un governo 5 stelle avrebbe salvato i risparmiatori ricorrendo al fondo interbancario, battendo i pugni semmai verso l'Europa, non chiedendo per piacere come fa Renzi, il quale peraltro ha fatto i conti senza l'oste sul deficit e nel 2016 potremmo avere una manovra aggiuntiva lacrime e sangue.